Salve fratelli della congrega, questo è un appuntamento molto importante perché di un grande attore ritrovato, rinnovato, presto parleremo e vi leggerò un articolo di mio pugno scritto, dedicato a costui che il mondo intero sta stupendo, poiché egli è stupendo. Qual è il gerundio presente di stupire? Oh, lo domando a te, mio stupito no, quello è participio passato, mio stupido.